Benvenuti nella contrarassegna stampa delle notizie meno diffuse ai media italiani, euro-atlantisti. La Federazione Russa non permetterà mai agli altri di ignorare i propri interessi strategici nazionali. A dirlo il presidente russo Vladimir Putin giovedì, quindi nella giornata di ieri dall'esclave sul Baltico-Russa di Kaliningrad, durante un incontro universitario di fronte a studenti locali. Il popolo russo, dice Putin, deve continuare a vivere secondo la propria percezione, secondo i propri interessi nazionali. E questo non significa non tenere conto degli interessi degli altri, cioè rispettare gli interessi dei partner strategici, cioè dei paesi amici rispetto a Mosca. Il presidente russo ha accostato queste posizioni, questi ideali russi, questa linea politica, ai vari principi dettati nella filosofia di un ex abitante, ormai secoli fa, di quanto meno decenni fa, del grande filosofo proprio di Königsberg, quando quindi Kaliningrad era sotto il controllo tedesco, Immanuel Kant. Andiamo avanti. Il ministero della difesa russo, il portavoce di Rikonashenko, nel bollettino di guerra, l'ultimo, quello di ieri, ha parlato di posizioni militari delle forze armate di Mosca sempre, sempre migliori, di giorno in giorno, nella zona soprattutto di Danieska, a nord del capoluogo del Donbass. Quindi si cercherà di accerchiare, una solita tattica che vediamo ormai da anni nel conflitto, in Ucraina, Russia, non solo, ma anche Ucraina, di accerchiare i grandi centri urbani conquistando le miniere, le fabbriche di armi, tutti i vari paesini circondari, quelli che i globalisti chiamano Interland, intorno ai più grandi centri urbani come per esempio Kupiansk, o Marinka, o Avdeyevka, Avdeyevka, a seconda del nome russo-ucraino. Razzi americani della contraerea in mano a Kiev, quindi Patriot, sistemi Patriot, avrebbero abbattuto l'aereo militare che secondo gli ucraini non trasportava prigionieri di guerra ucraini per lo scambio Kiev-Mosca, l'IL-76 sopra i cieli di Bielgrad, Loblast, la regione al confine con l'Ucraina del 91, nella federazione russa. A dire, a parlare delle responsabilità ucraine, del missile del sistema americano Patriot, non è una fonte russa come abbiamo detto ieri, la Russia sostiene o Patriot o Airis-T tedeschi, avrebbero poi abbattuto il velivolo militare trasporto-fanteria di Mosca, ma è Radio France, Radio Francia, sulla base di fonti militari francesi di Parigi, quindi una fonte chiaramente occidentale filo-ucraina. La Casa Bianca non ha voluto commentare queste dichiarazioni dalla parte della radio transalpina. John Kirby, sempre dalla stessa istituzione statunitense, ha parlato di un'America che non sarebbe in quella situazione per cui sarebbe in grado di commentare, confermare o smentire queste informazioni. Se ne sta in silenzio quindi e aspetta degli esami indipendenti, cioè sostanzialmente filo-ucraini sulla questione, filo-americani, per fare gli interessi delle grandi aziende americane, dei grandi fondi come BlackRock, Avantgarde e gli altri. Lavrov, ministro degli esteri russo, ieri pomeriggio, giovedì pomeriggio 25 gennaio, cercato di parlare e di far discutere l'incontro straordinario del Consiglio di Sicurezza ONU a New York proprio sull'accaduto dell'aereo russo abbattuto con dentro 65 prigionieri di guerra ucraini e non solo. Ma la presidenza di turno al Consiglio di Sicurezza ONU della Francia non ha permesso neanche di trattare il tema. La Russia bianca, la Bielorussia, schiererà un arsenale ancora più grande per la guerra elettronica, cibernetica ai confini occidentali, quelli con paesi nato come per esempio la Lituania, la Polonia e anche quindi l'Ucraina sotto l'ala americana dal 2014 quanto meno. A riferirlo il capo di Stato Maggiore dell'esercito di Minsk, Viktor Gulevich, dice lui La Russia bianca, le forze armate di Minsk, sono in grado di contrastare le esercitazioni Nato crescenti soprattutto dell'aviazione, degli eserciti Nato ai nostri confini, anche addirittura i movimenti delle navi nel Mar Baltico. Questa è un'intervista a Sputnik o Sputnik. Sputnik intanto il seretario generale della Nato e l'Alleanza Nordatlantica, quindi dall'altra parte Jens Stoltenberg, il norvegese, ha parlato di un movimento, di un accrescimento delle forze schierate ai confini bielorussi e russi come di una misura capace di prevenire la famosa escalation, l'allargamento del conflitto Russia non più contro l'Ucraina armata dall'Occidente ma contro la Nato direttamente. L'Europa dovrebbe avere come Unione Europea, qui si intende, un arsenale proprio di armi atomiche nucleari e non fare affidamento sull'arsenale atomico americano che c'è, come sapete, anche in Italia, oltre Germania, Olanda, Belgio, eccetera, o Turchia, per esempio, importante. Quindi deve, secondo Manfred Weber, capo dei popolari prima delle elezioni europee, non è un caso, rafforzare le proprie linee difensiva anche con l'arsenale non convenzionale rispetto alla minaccia russa. Solo la Francia, dice Weber, è una potenza atomica nell'Unione Europea. Oggi, dopo l'uscita dalla Gran Bretagna al Brexit, dice lui, il tedesco, vogliamo che la Nato si rafforzi nel vecchio continente, i membri Nato-UE, affinché anche, al seguito di una vittoria dei Trump in America, possiamo difenderci dalla minaccia di Mosca. Intervista di Weber a politico, un'intervista telefonica, lui che era di ritorno da Chia e verso Berlino, quindi a casa. Il presidente della Repubblica cieco, ex capo della Nato in Europa e va ricordato, bisogna assolutamente togliersi, toglierci anzi, le lenti rose, gli occhiali rosa, quindi romantiche, idealiste, perché l'Ucraina non sarebbe, neanche secondo lui, buongiorno, in grado di spedire a casa, fuori ai propri confini del 91 Ucraini, le truppe russe mandate da Putin nel 2022-24 febbraio. I paesi democratici, dice Petr Pavel, per questo motivo devono assolutamente continuare a sostenere ancora di più militarmente l'esercito di Zelensky. La Russia, dice Pavel, buongiorno, non è un nemico debole, si comporta in maniera aggressiva e arrogante. Mosca cercherà di conquistare, a ridosso delle elezioni presidenziali russe, nuovi territori. Qui non si capisce bene se in Ucraina o attaccherebbe quindi la Russia, anche la Nato, direttamente. Come dicono mille e mila generali, esperti, espertoni dal lato occidentale, non molto in Ungheria, tranne che per le fonti più globaliste, ultraatlantiste, globaliste anti-Orban. Boris Pistorius, quindi il ministro della difesa di Berlino, rimaniamo in Germania. Bisogna quindi un altro, l'elenco si allunga, bisogna prepararsi alla guerra direttamente, la nuova guerra tedesca contro la Germania, contro la Russia, scusate, c'è la possibilità di un attacco russo contro di noi. In mezzo però c'è una qualcosina che si chiama Polonia geograficamente. Dice Pistorius, bisogna rafforzare la Nato, intervista al medium pubblico tedesco ZDF. Non hanno permesso all'aereo della Baerbock, ministro degli esteri tedesco, che conosce molto bene la matematica, nello spazio aereo Eritreo, quindi in Africa. Per questo il suo viaggio in Djibouti è stato annullato, come viene fuori dalla dichiarazione della delegazione tedesca, la dichiarazione ufficiale della stessa Baerbock. A posto del Djibouti l'aereo ha dovuto sorvolare l'Arabia Saudita, la città di Jeddah, giovedì quindi, questo è successo ieri. Al centro ufficialmente un problema tecnico di mancanza di corrente elettrica, blackout per i globalisti. Al ministero degli esteri Eritreo non molti credono a questa versione. Va avanti lo sciopero dei macchinisti, quindi nell'ambito ferroviano e il trasporto pubblico su ferrovia in Germania. Ieri ha paralizzato il traffico ferroviario dei pendolari soprattutto. Non si sono avvicinate le posizioni, non si è arrivato ancora a un accordo. Per l'aumento degli stipendi, l'abbassamento dell'orario lavorativo settimanale in Germania, tra Deutsche Bahn, la ditta quindi federale nazionale, e il sindacato, i lavoratori del settore GDL. In Slovacchia, voltiamo pagina, Robert Fizzo ha firmato un accordo viaggiato in Transcarpazia, in Ucraina, per incontrare il collega, l'omologo Denis Schmiel, primo ministro ucraino. Come dice l'analista politico globalista ungherese Ben Darjevsky Anton, ucrainista assolutamente, però questa volta secondo me ci ha beccato alla grande, non bisogna fare affidamento per quanto riguarda i politici sulla comunicazione, sulle parole, ma sui fatti. Perché? Perché Robert Fizzo, socialdemocratico, SMER, cosa ha firmato? Un accordo ieri, l'Ucraina viene sostenuta nella sua integrazione europea, sovranità nazionale dalla Slovacchia, non solo, la Slovacchia appoggia i 50 miliardi di euro UE a Kiev, poi attivamente collabora militarmente anche per fabbriche di armi e munizioni in Ucraina, Slovacchia, eccetera, eccetera. La ricostruzione, un accordo in comune, quindi per le ditte edilizie, non solo, controllate sempre da BlackRock americana. Un forum economico comune, anche e soprattutto per la politica agricola, la produzione di cibo, l'allevamento, quindi la coltivazione, eccetera, eccetera. Le esportazioni che la Slovacchia permetterà di prodotti, di nuovo, di nuovo, di quei 14 famosi prodotti agricoli ucraini in Unione Europea, verso ovest, nell'energia anche atomica, quindi Westinghouse, ditta americana, non come in Ungheria con la centrale atomica di Pocs, con la Russia, Rosatom. E poi la costruzione, addirittura, di un rafforzamento, anzi, della linea ferroviaria tra Kiev e Kosciuszko, in Ungherese, quindi tra Ucraina e Slovacchia. E non solo in questo accordo, come assicura Denis Schmiel, quindi la controparte, Ucraina, come scrive Economi, Shenskaya, Pravda, giornale di Kiev, economico, non ci saranno più importazioni di gas russo via terra, via tubo, verso l'Unione Europea, verso la Slovacchia, dalla fine di quest'anno 2024. Quindi la Slovacchia comprerà comunque gas anche russo, soprattutto russo, da sud, dall'Ungheria, tradotto in parole povere, ipocrisia. Sanzioni, minaccia sanzioni UE finanziarie contro il governo Fizio, nel mentre, è un assurdo, assolutamente un assurdo. Però questo è un articolo, una minaccia dalla Vera Jurova, commissaria, ovviamente europeista, della Repubblica Ceca, di qualche ora prima, 23 gennaio, e questo potrebbe spiegare anche il viaggio in Transcarpazia di Fizio. Vera Jurova se la prende con Fizio, se l'è presa con Fizio qualche ora prima, rispetto all'accordo firmato per la riforma in Slovacchia, voluta dalla coalizione SMER del codice penale che andrebbe contro i valori europei, la democrazia e la lotta alla corruzione che a Bruxelles è di casa, come sappiamo benissimissimo, sarebbe illegale anticostituzionale l'approvazione del bilancio, legge di bilancio del 2024 in Polonia, a Varsavia, dalla parte del Senato a maggioranza europeista, dopo la formazione del governo globalista di Donald Tusk. Dopo l'approvazione della Camera Bassa della Seim è arrivato il Senato. Il PIS ha poi inviato, anzi, un reclamo alla Corte Costituzionale Nazionale. Perché? Quale sarebbe l'irregolarità rispetto ai regolamenti parlamentari? Il Parlamento ha approvato, il Senato ha approvato il tutto e anche prima la Seim, senza la partecipazione di due parlamentari PIS, i due ex ministri dell'interno e vice, imprigionati all'epoca, poi rilasciati nelle ultime giornate, come ho raccontato ieri. Duda assicura che prima di firmare la legge di bilancio, controllerà la costituzionalità del tutto. Non c'è di cui trattare, andare quindi a patti con gli ungheresi, c'è il primo ministro svedese e anche il ministro degli estri, quindi Ulf Christensen, rispettivamente Tobias Bistrom. Reazione alle parole del presidente del Parlamento ungherese di Fidesz, del partito di Orban, Köver Laszlo. Qui non c'è ancora l'ingresso di Stoccolma nella Nato. È arrivato sì, la luce verde, come si dice in gergo, dalla Turchia di Erdogan, ma non dall'Ungheria. Rimane l'unico paese nato a non volere ancora approvare la ratifica. Cosa ha detto l'uomo di Fidesz, il vertice? Non appoggiamo questo ingresso della Svezia nella Nato. Gli svedesi non trattano seriamente l'Ungheria e non considerano l'Ungheria una nazione seria con un governo scelto dai cittadini democraticamente. La replica dalla Svezia, Tobias Bistrom, quindi il ministro, a Afton Bladet, giornale di Stoccolma. Non abbiamo mai offeso l'Ungheria, non trattiamo in maniera poco seria il paese. Quando hanno più volte anche mandato in onda nella televisione locale in Svezia i documentari con membri dell'opposizione inglese pagati da Soros per sbugiardare Orban e metterlo in cattiva luce, lo sappiamo ormai dal 2010. Fidesz intanto la frazione al Parlamento nazionale aspetta l'incontro di persona che ci sarà, non ci sarà, non si capisce bene. Tire e mola dalla parte svedese tra Orban Victor e l'omologo svedese Ulf Kristersson. Marine Le Pen, per chiudere, si è allontanata dalle posizioni di stanza di AfD sulla cosiddetta politica di remigrazione di chi è arrivato illegalmente e non si è integrato in Germania e in Unione Europea così come potrebbe essere in Francia, a scriverlo AFP, quindi l'Agenzia Stampa Pubblica di Parigi. La Le Pen non è d'accordo, nonostante che poi l'Assemblement nazionale, il suo partito, e AfD Alternativa per la Germania siano nello stesso frazione all'Europarlamento. Dice l'Ale Pen, sono al fianco di ogni persona francese, di ogni cittadino francese, indipendentemente da come questo cittadino sia diventato tale, indipendentemente da come abbia preso la cittadinanza. Questa sarebbe la destra sovranista, piena di frazioni, piena di fratture, piena di incoerenza per chi avrebbe dovuto chiudere i confini rispetto all'immigrazione, i flussi illegali di massa che continuano ad arrivare sempre più numerosi all'interno dei confini Schengen. Ecco perché non ho molta fiducia in un grande cambiamento durante le elezioni europee di questo giugno. Grazie per aver visto questo video dal prossimo tra Italia e Maglio Orsag. Grazie per aver guardato il video